Il modo in cui guardiamo le cose e il mondo intorno a noi si riflette sulla qualità della nostra vita e quindi sul nostro stato d'animo. Per spiegare al meglio questo concetto durante i miei corsi di formazione a volte racconto una storia molto indicativa, quella dei tre spacca pietre. Ognuno di noi di fronte ad uno stesso evento assume un atteggiamento diverso a seconda del modo in cui percepisce la situazione, proprio come nella storia che segue. Durante il suo cammino un pellegrino si imbatté in un'enorme cava dove alcuni uomini stavano scolpendo dei grossi blocchi di pietra. Gli uomini erano tutti pieni di polvere e visibilmente affaticati. Il pellegrino si avvicinò al primo uomo e gli chiese che cosa stai facendo? L'uomo gli rispose irritato. Non vedi? Sto martellando questa stupida roccia e non vedo l'ora di finire questo maledetto lavoro per tornare a casa. Più in là c'era un secondo spacca pietre e il pellegrino gli rivolse la stessa domanda. Che cosa stai facendo? L'uomo che sembrava più interessato al suo lavoro rispose sto lavorando questo blocco di pietra per costruire un muro. È un lavoro faticoso ma lo faccio molto volentieri per mantenere la mia famiglia. Anche il terzo spacca pietre era molto stanco e sudato ma ogni tanto si fermava per ammirare il suo lavoro. Alla domanda cosa stai facendo? L'uomo sorrise e rispose con orgoglio sto costruendo una cattedrale e guardò in alto la grande costruzione che stava sorgendo. Questa storia è una metafora che ci mostra con chiarezza disarmante come la nostra percezione faccia tutta la differenza del mondo. La qualità della nostra vita dipende soprattutto da noi e dal nostro atteggiamento. I nostri pensieri influenzano le nostre azioni e le nostre azioni diventano la nostra vita.